Roberto, una battuta sulla lettera che è comparsa sull'unità proveniente dalla torre argentina. Non so se l'hai letto, se c'è capito qualcosa. L'ho letta, è una lettera nel quale si manifesta un dibattito che è all'interno dei radicali. Ci sono compagni che hanno fatto una scelta, quella di presentare delle liste, altri che non pensano che quella sia giusta ma che mi appoggiano. Per me è motivo di orgoglio sapere che gli uni e gli altri ritengono che io possa essere un buon sindaco. Ci siamo confrontati sul merito, siamo d'accordo su molte cose, su tante altre che riguardano i temi internazionali credo che non debba spendere una parola perché ne abbiamo fatte tante insieme. L'Olimpiade, infatti, hai detto un po' di radicalità in questa ipotetica e speriamo che ti auguro sindacatura, la porterai? Beh, non vi è basto io. Ho parlato, credo che, diciamo, intanto porto la mia, poi se ce n'è dell'altra va benissimo. No, no, beh, insomma, diciamo, non mi pare che nel discorso di oggi ci fosse poca radicalità. Poi si può fare sempre meglio, però. Grazie Roberto.